Protocollo d'intesa tra Plastic Free Onlus e il Comune di Menfi per dire di sì alla sostenibilità ambientale, mentre il prossimo 22 aprile si svolgerà un evento nazionale in spiaggia per un weekend dedicato alla terra. Il protocollo d'intesa sancisce ufficialmente la collaborazione tra il Comune di Menfi e l'organizzazione di volontariato con più di mille referenti su tutto il territorio nazionale, sodalizio che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica, in particolare quello monouso, per i suoi effetti devastanti sull'intero ecosistema. A siglare il protocollo deliberato dall'Aggiunta Comunale Belicina, la sindaca Marilena Mauceri è il referente dell'Associazione per Sciacca e Menfi, Domenico Vernagallo. Presente durante la firma anche l'assessore comunale all'ambiente Ignazio Mistretta. Il protocollo è finalizzato a permettere all'Associazione di velocizzare le attività di volontariato sul territorio, creando un canale di comunicazione diretto tra le parti, con l'obiettivo di crescita e miglioramento in merito alle tematiche ambientali e lo sviluppo di nuovi progetti. Plastic Free Onlus proporrà sul territorio attività di sensibilizzazione tramite iniziative a titolo gratuito, come appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzato sul territorio, informazione e sensibilizzazione attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio e segnalazione di abbandono di rifiuti in maniera abusiva. Il Comune di Menfi, dal canto suo, offrirà il proprio patrocino gratuito autorizzando le attività sul territorio, garantirà priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free e autorizzerà l'occupazione gratuita di suodo pubblico per l'installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali.